Ciao, con questo video iniziamo a trattare davvero l'argomento degli impianti dentali. La prima domanda che mi viene posta è la più scontata, cosa siano gli impianti dentali? Gli impianti dentali sono delle viti in titanio che servono a sostituire i denti persi. Possiamo considerarle delle radici artificiali che vengono inserite nell'osso della mandibola o della mascella e sulle quali vengono costruiti i denti mancanti. Ho definito l'impianto una vite non a caso, in quanto in questa immagine di un impianto inserito nell'osso si può vedere che l'impianto ha una sua filettatura esterna che si avvita nell'osso proprio come una vite che viene avvitata per esempio del legno. Ma l'impianto ha anche una sua filettatura all'interno. E a cosa serve questa filettatura interna? Serve affinché dei componenti possano essere avvitati all'interno dell'impianto stesso. Guardiamo questa immagine nella quale si vede un impianto con la sua filettatura esterna, un moncone che viene avvitato all'interno dell'impianto e la corona che poi viene cementata sul moncone. Grazie. Grazie.